Oggi presentiamo London Dialogues, spero si dica così nel mio pessimo inglese, di Hans Ulrich Obrist, Rem Kolas, edito da Skira. Prezzo 29,95 dollari, 19 sterline e 95, 20 sterline. 30 dollari. Hans Obrist è un maratoneta delle interviste, in questo caso si tratta di interviste fatte nell'arco di 24 ore. Un po' come il Casanova che racconta le sue avventure sessuali e noi ci stupiamo per la resistenza, per la capacità di metterne una dopo l'altra, ci stupiamo che Obrist riesca a fare questi cicli interminabili di interviste, riesca sempre a trovare la domanda giusta, riesca a svolgere questa attività con una bravura, direi, ginnica. Intervistati molti personaggi, alcuni che noi architetti conosciamo meglio, come Ron Arad, Peter Cook, Irst, Zadid, Jenks, altri invece che fanno parte del mondo della letteratura, del cinema e di altre discipline artistiche. Insomma una bella Macedonia anche se alla fine un po' stancante perché così come quando si seguono le avventure di Casanova a un certo punto uno dice vabbè non ce la faccio più, smettiamo di leggere questa sequenza interminabile di eventi e così un po' per queste interviste alla fine credo che scatti un po' di noia. Ti dispiace di non aver costruito a Londra? chiede Obrist a Colas, che tra l'altro adesso ultimamente ha costruito. Colas risponde no, 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 perché Londra è stato un rifugio. Un rifugio? Sì, 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 assolutamente un rifugio. E questo libro? Beh, più che un antitodo contro la noia può essere anche questo un rifugio.